Alla fine la quadra si è trovata con lo sblocco di 5 milioni di euro che per il 2023 saranno destinati alle famiglie a Basso Isee per il caro Bollette. Poco prima della mezzanotte di ieri il Consiglio regionale ha approvato la sua finanziaria e il bilancio è stato uno dei temi della conferenza stampa di fine anno del governatore della Regione Abruzzo Marco Marsilio, affiancato da alcuni componenti della Giunta, ma bilancio a parte, il 2022 è stato per la Regione un buon anno, ha detto Marsilio, un anno di grande lavoro. Con la parte dei fondi riprogrammati sono raddoppiati fondi per le imprese artigiane, arriveranno anche altri fondi per queste imprese però, completate poi una serie di opere come il pontile di Roseto. Sul bilancio Marsilio ha ribadito che alla fine si è scesi sul piano del confronto e laddove ci sono stati emendamenti delle opposizioni ritenuti giusti, loro sono andati incontro, vedi malati oncologici, giochi inclusivi, centri antiviolenza. Il bilancio sul sociale ha voluto ribadire Marsilio è quello più sociale che la Regione Abruzzo ha adottato nella storia, fondi per la vita indipendente, sostegno agli studenti e tanto altro, risorse per protezione civile, per i piani di sicurezza, ma anche per il rischio geologico, 30 milioni poi per il trasporto pubblico locale, tolta lì Rappalle e Ollus. Sui fondi per la crisi energetica Marsilio ha ribadito che non hanno consentito a richieste di dirottare fondi in modo generico, ma li hanno messi laddove servivano, come alle imprese per realizzare impianti, alla Rapp per le bollette, fondi anche per i consorsi di bonifica. L'Abruzzo insomma è una Regione che sa spendere per il Governatore. Abbiamo già visto i primi segnali importanti di attenzione, il Parlamento e il Governo hanno riconosciuto i fondi per la ricostruzione, per i comuni del cratere sismico, hanno riconosciuto i fondi per l'asse attrezzato, un'altra vicenda ferma da 40 anni, stanno procedendo finanziamenti a palti importanti di opere, sia da parte di strutture governative e statali come Anas, ieri la Pede Montana, 55 milioni messi a gara per la Pede Montana, Teramo Ascoli e noi che abbiamo completato, questo è una cosa di cui siamo particolarmente orgogliosi, sostanzialmente abbiamo raggiunto tutte le obbligazioni giuridicamente vincolanti, di fatto spendiamo tutti i fondi alla faccia di chi continua a dire che ci sono amministrazioni che non sanno spendere, fondi europei o nazionali, noi li spendiamo tutti, li spendiamo anche bene, lo abbiamo dimostrato durante l'emergenza Covid, lo stiamo dimostrando con la gestione dei fondi, sia quelli europei che quelli strutturali, che quelli dell'agricoltura, dove in tutti i campi dimostriamo di aver fatto cambiare passo e ripeto, spero che il prossimo anno possa portare a termine, anche perché tanti di questi fondi di cui stiamo parlando sono stati impegnati grazie a gare, gare e appalti conclusi proprio in questi giorni, nei prossimi mesi vedremo i cantieri e cominceremo a vedere le opere infrastrutturali che daranno un volto nuovo alla nostra regione.